Volei essere un architetto come Lenzo Piano e Yomongaka. Volei essere un veterinario perché mi piacciono molto gli animali. Volei partecipare al campionato mondiale di Dragon Ball Legion. Il mio sogno è essere un bravo medico per salvare delle vite. Volei essere un medico curugo. Volei essere un gamero professionista. Volei essere un calciatore famoso come Ronaldo e giocare alla Juventus di Torino. Il mio sogno è diventare un calciatore famoso come Neymar. Volei essere un architetto famoso come Gaia Olenti. Volei essere una ballerina famosa perché adoro ballare. Il mio sogno è fare il giro del mondo con le mie amiche. Il mio sogno è di avere un fratellino. Il mio sogno è essere una copionessa di noto nella squadra nazionale francese. Volei avere due cani dal mancato. Tanti auguri a tutti voi. Salute, gioia e pace. Buon anno! Tre! Attende, ma non sono pronti. Buon anno per favore. Buon anno per favore. Grazie.